Amici di Italia Love TV, siamo qui con Anna Di Franzio e Antonio Di Bari. Bene, rispettivamente gli interpreti di questo musical, gli interpreti principali di questo musical, Francesco e Chiara. Allora Anna, volevo chiederti un po' com'è stato per te entrare nei panni di Santa Chiara d'Assì. Allora, sicuramente è una bellissima esperienza, mi ha aiutato anche non solo, non si deve fermare sul palco, sicuramente anche nella vita, perché è importante fare quello che facciamo, trasportandolo in ciò che facciamo ogni giorno, quindi nella nostra quotidianità. Per te invece come è stato entrare nei panni di San Francesco? È particolarmente emozionante e importante, soprattutto perché il nostro regista, così come ha detto alla fine dello spettacolo, abbiamo indossato un saio, un saio ha un peso specifico importante per la vita, ecco che questo adesso lo porteremo con noi, nelle nostre famiglie, nei nostri amici e in tutte le persone che conosciamo, ecco. E il rapporto un po' con gli altri che recitano insieme a voi com'è? Sì, vabbè, io sono da più tempo nella compagnia rispetto a lui, quindi un rapporto bellissimo, perché fare queste cose, cioè comunque c'è uno spirito di fratellanza, di grande amicizia tra tutti noi, e quindi lo riportiamo anche tra di noi nel gruppo. E progetti futuri per la compagnia quali sono? Quelli che ci porterà il Signore, ecco, e soprattutto ci affidiamo al nostro regista. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.